Finalmente mastico, dopo quasi undici anni mastico. Mi trovavo in imbarazzo perché avevo un apparecchio mobile che nonostante i vari adesivi e tutto quanto mentre parlavo si staccava o mentre si era fuori a mangiare con compagnia mi ritrovavo che si era staccato ed era veramente molto imbarazzante. Non riuscendo a masticare perché non combaciavo nei denti se era sopra o non ce li avevo sotto e viceversa, ho avuto anche diversi problemi fisici proprio dovuto alla mancanza di masticazione. Da ieri che ho i denti definitivi non ho ancora smesso di sorridere, senza mano davanti tra l'altro. E adesso quando tornerò a casa che avrò l'impatto proprio con le persone mie care, lì ci sarà la prova del 9 ma vedo già adesso che è completamente diversa il mio approccio con le persone. Sono molto rigida su quello che riguarda i dentisti, la pulizia e l'approccio che devono avere perché avendo questi problemi da quando avevo 10 anni ne ho passati tutti quelli che erano possibili ma già i dentisti li ho passati tutti, ho cominciato ad essere un po' selettiva. La mia paura era di arrivare qua e non trovare quello che cercavo, cioè la professionalità, la pulizia, anche l'empatia perché è importantissimo avere anche persone empattiche vicino che capiscono il tuo disagio o le tue paure, cosa che qui invece ho trovato completamente.